L'autorità portuale ha annunciato di aver avviato la progettazione per quanto riguarda la nuova cassa di colmata al porto di Pesero e che avvierà anche i sondaggi per caratterizzare il terreno, quindi capire quelli che sono i fanghi, i sedimenti oggi presenti nel porto, quanti di questi dovranno andare all'interno della cassa di colmata. Devo dire che dal mio punto di vista, però, attualmente la cassa di colmata che è prevista nel porto di Pesero dovrà servire per accogliere i fanghi, i depositi non solo del porto di Pesero ma anche dei porti delle Marche. Io ritengo che questo sia un grave errore, che la cassa di colmata che verrà realizzata nel porto di Pesero debba essere dimensionata solo per accogliere i fanghi del porto di Pesero perché noi stiamo puntando sempre di più su un porto che sia in qualche modo turistico, che sia anche bello e quindi oggi è un porto sicuramente commerciale con tante barche di persone che lo fanno perché hanno piacere di andare in barche, quindi il diportismo, ma vogliamo sempre di più far sì che questo porto diventa appunto un porto turistico. Pensare a una cassa di colmata che a tutti gli effetti è una sorta di discarica dove vengono portati i fanghi, aperta per anni perché dovrà accogliere appunto i sedimenti di diversi porti, secondo me è un errore. Affaccia su Baia Flaminia, affaccia sul parco del San Bartolo, io penso che quindi sia importante chiarire che tipo di funzione avrà questa cassa di colmata perché ritengo che debba accogliere appunto solamente i depositi provenienti dal porto di Pesero.